What is there? What the fuck is there? Nice Ciao ai noob channel Ciao e non metto fuoco Che bello il cellulare per fare i video E volevo dirvi che comunque a me Fortnite fa schifo Quindi vi farò un video su YouTube Poop Quelle lì, quelle che fa Poldo Quelle che fa Fred Quelle lì insomma Avete capito Però le mie Poop hanno la particolarità di contenere al suo interno un gameplay Un montaggio, un montage Quindi è un video strano Ciao Gia bella Yeah 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 All right I can see that I will have to teach you how to be Gesù Armotta venezuelana Siamo con te che cazzo vuoi Corro nudo sto rovinando il pene contro Cristo Faccio le pippe Cazzo Mi poldo Ma sei crocio? Col cazzo che sono Crocio La fede è monere Magno per il proprio cane In curacero Adesso falco da Cristo Rano che malrenatura rende La madonna La parte più merda Degli animali Pensavo dicessi strano che Gesù Ad avere il pungiglione Così con un palco bollo Eroario Ora sono la terminativa Che ragazzo mi è sottofondo La madonna Mi è appena successo una cosa incredibile Ha del magico questa cosa qui Praticamente la registrazione audio che ho fatto Per dirvi che caricherò video un po' più sporadicamente Visto che ho un botto di roba da fare ultimamente Si è corrotta e si è fermata a 17 secondi Io visto che sto facendo un video sui noob Non credo sia un caso Non credo proprio sia un caso Per dirvi che caricherò video un po' più sporadicamente Non credo sia un po' più sporadicamente